E adesso Piero Tagliapietra. Ciao Piero, mi piace molto questo titolo interrogativo che non dà subito una risposta ma fa delle domande. Sì, anche perché secondo me non c'è una risposta vera e infatti è un po' uno spoiler se vuoi su la chiacchierata che faremo a breve. Quindi la risposta come sempre è dipende e quindi ti lascio elaborare questo dipende come sai fare tu. Allora, innanzitutto vi dico che ho qualche slide, non tantissime perché poi ne chiacchieriamo. Allora, ciao, sono Piero e oggi sono qui per cercare quantomeno di rispondere ad alcune domande. Ovvero, la domanda fondamentale non sulla vita, l'universo e tutto quanto, ma quella che faceva vedere Alessandra, o meglio, che abbiamo condiviso poco fa. Ovvero, ci sono dei vantaggi economici nella cooperativa? Secondo me è una domanda sbagliata, innanzitutto. È una domanda sbagliata per varie ragioni. E adesso, una alla volta, vorrei riflettere con voi. Ovvero, vediamo se riesco... Oh, funziona anche tutta la condivisione. Oh, no, ho sbagliato finestra, scusate. Volevo condividere l'altra scheda e ho sbagliato omestamente. La scheda di Chrome giusta è questa qua, che si chiama Freelance Camp. Perché? È una domanda che a me fanno spessissimo. Ovvero, la cooperativa conviene. E, in realtà, quello che diceva Alessandra è... Ero indeciso se mettere una slide con McKinsey, Bain e tutti gli altri, ma ho deciso di puntare su qualcosa su da boomer, ovvero con Arabele Palo, che ti dice, depende. Perché questa cosa qua? Perché è veramente una domanda difficile alla quale dare una risposta netta e assoluta. La cosa che possiamo fare oggi, in 15 minuti, è darci degli elementi per rispondere da soli a questa domanda. E quindi andiamo subito al sodo. Per capire se una cooperativa conviene o meno, vi devo dire anche che cos'è una cooperativa, perché mediamente non lo si sa. Quindi, che cos'è una cooperativa? E nello specifico a voi interessa una realtà abbastanza particolare, che è una delle tipologie di cooperative, perché mediamente, come dice, conosci le cooperative, tu pensi alla CONAD, che sono una tipologia di cooperativa. Noi parliamo, invece, delle cooperative di produzione del lavoro, che hanno l'obiettivo, la missione, di creare lavoro per i propri soci e di assicurargli le migliori condizioni sul mercato. Quindi, quella che ci interessa oggi è una tipologia molto specifica. Ci sono quelle di conferimento, quelle di produzione, quelle di pesca. Ce ne sono tante. Oggi noi ci concentriamo su queste. Quindi, sono quell'insieme, se volete, di persone, che si uniscono per ottenere condizioni più favorevoli rispetto a quelle che otterrebbero sul mercato. Per cui, già questo, secondo me, inizia ad essere una... Conviene, beh, in teoria nascono per questo. Vediamo poi se è vero. Com'è fatta una cooperativa? Una cooperativa è fatta da tre cose. Vi dico, sarò molto veloce, ma dobbiamo avere un minimo di contesto. Ci sono i soci, che sono i soggetti che decidono come deve andare l'impresa. Per cui, non è verticistica, se volete, non c'è un solo amministratore che decide, ma l'amministratore fa quello che gli dicono i soci. Ci deve essere uno statuto che dice in quali campi operi e il capitale sociale che è variabile. Perché vi dico questo? Perché, banalmente, ognuno di voi potrebbe decidere che come alternativa, se valuta che gli conviene, potrebbe aprirsi una cooperativa. Non è che ci siano dei vincoli particolari. Dovete definire perché lo fate, lo scopo mutualistico e che progetto volete realizzare. Dovete costituirla perché è un'impresa, quindi dovete andare dal notaio, fare tutta la trafila, e vi servono anche un atto costitutivo e un astututo che dice cosa fate, cosa non fate e via dicendo, e dei regolamenti interni. Quindi la cooperativa non è un qualcosa che magicamente nasce. È un'impresa come tutte le altre. E da questo punto di vista, quindi potreste farvela da soli, assolutamente sì, anzi è una bella opportunità, e nella cooperativa di produzione lavoro, ricordate che avete due rapporti, sei socia o socio, e quindi sei parte dell'impresa, perché la cooperativa è quell'impresa dove il rischio è condiviso tra i soci, non è che se lo becca solo l'amministratore o il presidente. Dopodiché, oltre a essere socio o essere socia, sei anche lavoratore e lavoratrice, quindi hai un rapporto di lavoro dipendente, cosa che ci interessa moltissimo. Quindi, queste due cose sono parte attiva dell'impresa o un rapporto a dipendente, dove così dipendente ci aiuta già a capire che forse qualche tutela c'è. Perché vi dico questa cosa qui? Perché quando parliamo di è vantaggiosa o non vantaggiosa, dobbiamo ricordarci tre pilastri. Cooperativa, ovvero è la nostra impresa. Questo è il motivo per cui molto spesso le cooperative di lavoro vi raccontano che è un trade union tra l'indipendenza del freelance e la tutela del lavoro dipendente. Perché effettivamente la cooperativa è la tua azienda. Sei tu che decidi, perché abbiamo detto sono i soci che decidono la sua direzione di produzione lavoro. Abbiamo detto è la tipologia che ci interessa discutere velocemente oggi, che ha l'obiettivo di procurare condizioni migliori rispetto a quello che potrebbe fare il singolo e poi c'è anche l'autogestione, cioè siamo autonomi nella gestione della cooperativa. Questo è, secondo me, il passaggio necessario perché altrimenti poi alcune cose, secondo me, non tornano. Quindi ci interessano le cooperative, che sono le nostre aziende che gestiamo noi in autonomia, che hanno l'obiettivo di produrre lavoro. Attenzione che è diverso da un'impresa tradizionale con il rischio su una sola persona. Quindi le persone non devono per forza fare dei progetti. In una cooperativa di autogestione il rischio è condiviso e io posso proporre progetti ai soci che possono dirmi anche che Piero non mi interessa. Quindi da questo punto di vista non è, diciamo, la soluzione ottimale per chi vuole fare il dipendente, è la soluzione ideale per chi è comunque freelance. E ovviamente questo ha un impatto anche lato economico, perché il lavoro dei soci è remunerato a seconda di quanto contribuiscono. Questo, se volete, era quattro minuti su. Giusto inquadriamo di che cosa stiamo parlando, perché altrimenti non ci capiamo fra poco che è la parte quella un attimino più interessante. Perché adesso che abbiamo fatto questa, diciamo, introduzione, finalmente possiamo fare delle riflessioni sul tema. Le riflessioni è cercare di rispondere a quella domanda. E quindi come funziona una cooperativa? Parte dall'angolo a sinistra, dal lavoro. Quindi i soci fanno del lavoro, questo lavoro genera del fatturato, che essendo di solito una cooperativa, viene definito dal socio, dalla socia, da quello che vuole, e da questo fatturato, qual è il modello di business delle cooperative, viene trattenuta una percentuale variabile e con questa quota poi vengono erogati i servizi a supporto. Questo, se volete, è il modo in cui funzionano le cooperative di produzione e lavoro. Ve lo calo sul modello che applichiamo, sui numeri che usiamo noi, in modo che ci sia un pochino più di contezza, e poi possiate fare dei ragionamenti anche su altre cooperative. Cosa succede da noi? Allora, lavoro e fatturato sono uguali per tutte. Cos'è che cambia in generale tra le varie cooperative di produzione e lavoro? Cambia semplicemente la parte di destra, ovvero la quota e i servizi a supporto. Quindi potreste avere, come nel nostro caso, una quota che viene trattenuta sul fatturato del 13% e una serie di servizi a supporto. L'ufficio a contratti, l'amministrazione, l'ufficio bandi, sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, la cosa, se volete, per incominciare a ragionare è conveniente. Allora, la domanda è malposta, come direbbe Guzzanti, perché se uso i servizi a supporto, potrebbe essere conveniente. Se non uso i servizi a supporto, non mi conviene. Altro elemento, come vi dicevo, è che varie cooperative tendono ad avere quelle quote che sono diverse. Ho detto, noi abbiamo il 13% perché abbiamo deciso di erogare una serie di servizi. Ci sono altre realtà in Italia che hanno il 9, il 10, chi ha il 18. E' molto variabile questa cosa perché dipende da quanti e quali servizi vuoi erogare. Per cui, anche qui, rispondere in generale la cooperativa è conveniente e dipende da che cosa ti serve. Per cui, se tu non usi nessuno dei servizi a supporto, già qui io incomincerai a dire, guarda, la cooperativa potrebbe non essere conveniente. Se incominci a dire, ma guarda, io alla fine avrei bisogno del consulente al lavoro, della sicurezza, del recupero crediti, potrebbe essere. Però qui stiamo ragionando su uno degli aspetti che, come vi dicevo, è uno, dobbiamo metterne in filo una serie di altri e dobbiamo capire bene il modello. Quindi, ripeto, uso i servizi che sono inclusi, diciamo così, nel modello, è interessante, non li uso per dare un po' di interesse. Altro elemento per fare i conti, perché è un'edizione sui soldi e sul lavoro, è come funziona la gestione del lavoro per fare poi una riflessione su la convenienza o meno. Io parto dal progetto, perché sono un project manager, amo profondamente i progetti, non potevo parlare d'altro. Quindi noi partiamo da un progetto dove ci sono sostanzialmente il socio, la socia, definiscono che cosa c'è da fare. Come arrivo alla definizione, chiamiamolo così, del netto di progetto? Punto uno, si tolgono le spese, perché in cooperativa le spese vengono rimborsate, così come i chilometri e il fatto di andare in giro, perché non fanno parte del valore di progetto. Da questa parte, chiamiamolo così, di fatturato, che rimane senza le spese, è su quello che si calcola la quota del 13% che la cooperativa trattiene. Sul restante poi ci saranno le tasse e il netto che comprende anche gli oneri differiti, tipo il TFR, le ferie e via dicendo. Che cos'è che fa la differenza? La differenza la fanno esattamente la tipologia di progetti. Se parliamo meramente di convenienza economica, questo perché se avete dei progetti con tante spese e andate tutti i giorni dal cliente, in questo caso ovviamente, potendole, chiamiamolo così, scaricare come un ordinario, mettiamola proprio così, è ovvio che la quota di progetto sulla quale pago le tasse si abbassa e quindi potrebbe essere interessante. Se i vostri progetti non hanno spese, se non andate mai da un cliente, se lavorate sempre a casa e basta, è ovvio che in quel caso non c'è così tanta convenienza economica. io parlo puramente di convenienza economica oggi. Però vedete che stiamo aggiungendo il fatto di dover prendere consapevolezza dei propri numeri, del modo in cui si lavora, di che cosa si fa. Elemento non banale. Quindi, altro spunto che io vi do, che è la cosa interessante, è ricordatevi che il regime ordinario è compatibile anche col lavoro, diciamo, dipendente, fino a un reddito di 30.000 euro. Quindi conviene, può essere, io sono per gli approcci intelligenti, perché io potrei dire tengo il regime forfettario per tutti i progetti che non hanno spese, evito di sforare e mi tengo 30.000 euro per i progetti che hanno un sacco di costi. Me la posso gestire anche così. Non è obbligatorio, non è che questa scelta ci sia una dicotomia totale. Ce la si organizza come meglio crede. E anche questo può essere un elemento per la convenienza o meno. Io sono contrario a dire o questo o quello. Altro elemento, se volete, è che il 13%, attenzione a vederlo come un costo, perché quel 13% sono soldi che rientrano nella cooperativa che è l'impero di tutto e ad esempio quest'anno c'è stato avanzato qualcosa e si può scegliere se ridistribuirlo tra i soci oppure fare dei progetti. Cosa che conoscete tutti bene e abbiamo chiesto magari i soci e cosa volete? Vogliamo trovare colleghi con i quali collaborare? Va bene, facciamoci una piattaforma di profilazione. Quindi il 13%, la trattenuta che la cooperativa fa alla fine è per erogare servizi ai proprietari della cooperativa. Quindi io sono sempre un po' scettico su di dirlo come costo. Quindi il costo di gestione del 13% io lo prendo sempre con le pinze perché alla fine sono servizi di cui io godo e che altrimenti dovrei pagare. Arriviamo poi alla fine in modo da rimanere nei tempi ed essere anche qui giudizzeri. C'è una cosa che non dovete fare assolutamente per valutare la convenienza. Cioè fare il conto sulla singola fattura. Quella roba qui non fatela mai. Banalmente perché? Perché fate questa cosa qui. Prendo il progetto, dico allora, quello che mi ha detto Piero è che in cooperativa, le trasse più o meno del dipendente sono il 30-40%, mettici il 13% e vabbè, alla fine mi porta a casa il 50% del valore progetto. Ragioniamo sempre sul valore progetto. Statisticamente vi posso dire che ho fatto un'analisi di 800 progetti negli ultimi anni e siete tra il 50% e il 60% di netto. Dipende molto dalle cose quindi prendetelo come poli di Trilussa. Prendo la mia forfettaria e dico beh cavolo cioè pago le tasse sul 78% o il 5% a seconda quindi dico beh mi porto a casa più dell'80% la cooperativa non conviene. Questa roba non fatela. Non fatela ma banalmente perché è sbagliata da un punto di vista formale. qui il saggio Yoda ci viene in aiuto perché dovete calcolare il TCO calcolare dovete cioè qual è il costo della mia impresa non il costo del progetto o delle fatture quanto mi costa la gestione del lavoro complessivamente perché a quel punto io posso fare un ragionamento secondo me con i numeri che io tanto adoro su mi conviene o non mi conviene quindi cos'è che potete fare per valutare se per voi per il vostro lavoro e per i vostri progetti beh prendete il progetto e incominciate ma io che servizi uso? uso un sistema di gestione ho un avvocato devo farmi fare i contratti ho contrattolistica ho spese vado al cliente ferie tipo tutto quello che ha presentato Luigi sull'accantonare i soldi io non so che cosa sia io sono una persona fondamentalmente pigra sono un PM per cui voi fate una bella cosa vi fate l'elenco dei costi di progetto o che dovete spalmare sull'anno e a quel punto potete valutare come vi dicevo prima ho tre clienti ho i contratti già fatti lavoro da casa nessuno mi rompe le scatole voglio lavorare da solo da un punto di vista di convenienza la forfettaria è meglio incomincio ad avere delle spese forse uso i servizi altre cose il discorso se volete cambia tuttavia ecco anche qui sapete chi vive di assoluti i sit conviene sempre non conviene mai sono domande veramente che non hanno senso quindi non siate dei sit scegliete insomma di percorrere la via illuminata della forza e fatevi delle domande fate dei ragionamenti perché non è possibile rispondervi in assoluto ci sono troppi cambiamenti ogni situazione è a sé la cosa che dovete fare sono i compiti così come dovete fare business plan controllare le uscite valutare gli andamenti della vostra attività anche lì sui progetti vanno fatte delle riflessioni puntuali altrimenti la risposta da domande sbagliate nascono risposte sbagliate per concludere proprio sbattetevi sui numeri non posso dirvi così a sentimento conviene entra non conviene lascia perdere dovete analizzare il caso e poi per una chiacchiera così per vedere valutare io e gli altri ci siamo ma in generale anche per dirvi no guarda questi servizi non li usi lascia perdere vai in un'altra cooperativa hai bisogno del fatturificio guarda ce ne sono tanti belli e carini non vuoi fare le fatture elettroniche c'è qualcuno che le fa per te vuoi fare altre cose fai quest'altro elemento oppure guarda gestisciti lascia perdere rimani in forfettaria perché per tutto quello che devi fare funziona meglio quindi conviene dipende l'ha detto Harabede Paola all'inizio e poi ce lo dicono sempre i consulenti quindi da questo punto di vista spero di avervi dato qualche spunto innanzitutto per capire qual è il settore e poi quali sono gli elementi che vi servono per valutare se la cooperativa può essere un elemento ragionevole o se per caso non vi serve assolutamente grazie Luigi this is the way come direbbe qualcun altro sono anche stata abbastanza nei tempi anch'io sono cercato di essere bravissimo bravissimo infatti adesso sono le undici e mezza e arriva il momento che uno dei momenti che aspettiamo questa mattina cioè la mezz'ora di networking dove ci proiettiamo tutti nelle stanze più o meno alcoliche più o meno di app o di soldi e andiamo a fare chiacchiere ci rivediamo sul main stage a mezzogiorno ciao top ciao 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 ciao